Alla star Chris Eben! Un applauso a Chris Eben e un partecipante storico. Ruffia. Penso che prima o poi istituiremo anche un premio alla carriera per questa etichetta e sarà il primo ad averlo. Io vorrei il cestino a Natale con il panettone e la bottiglia, se non vi spiace. Mamma mia, intanto ti ho portato stiga stasera, non so se hai notato la maglia viola. Tanto non ero mai in finale lo stesso. Ho messo a portare un passo in finale e magari ne arriva qualcun'altro. L'anno scorso mi hai detto ci vediamo l'anno prossimo, prima della serata finale. Almeno sei ancora qui. Grazie. Ti ho portato per così tanta sfortuna, o no? All'autore dei testi per queste cose, vero sì? No, faccio tutta la storia, tu invece ce l'hai l'autore per i testi. Sì. Presentaci. Luca Poli, c'è la chitarra. I testi in realtà sono tipo il make-up a lui, in effetti. Che cosa ci stai per cantare? Allora, il primo pezzo si intitola Shake the Monkey, ed è un pezzo del 96, che abbiamo scritto quando lui era praticamente un fanciullo. Perché lui è grande, lo facciamo. 95-96, sì. E parla di un ragazzo che ha problemi di droga, praticamente, parla di un amico. Purtroppo è attuale. E viva ancora, e comunque non è ancora morto. E, buono, è il secondo che lo presento dopo. Prego, a te, tanto se te ne hai fatto benissimo. Ciao. Chris Heaven! Vai Chris! Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.